Buongiorno a tutti, buon mercoledì 12 agosto 2020, questa è la rassegna stampa di FanoTV sul canale 17, ci ritroviamo anche questa mattina per vedere le pagine dei quotidiani, questa mattina il Corriere Adriatico, il Corriere Adriatico di oggi edizione di Pesero, prima però andiamo a vedere il Santo del Giorno, oggi la Chiesa ricorda Santa Giovanna Francesca de Chantal, il sole è sorto alle 6 e 11 e tramonterà alle 20 e 21. Per la giornata di oggi avremo cielo sereno con addensamenti cumuliformi nelle zone montane nelle ore centrali della giornata, avremo qualche precipitazione nelle zone interne della montagna, nelle ore più calde della giornata. Per domani, domani è giovedì, giovedì avremo cielo sereno poco nuvoloso con temperature stazionare in lieve aumento, per la giornata di venerdì invece la vigilia di ferragosto, 14 agosto cielo sereno poco nuvoloso, anche se in mattinata lì avremo un cielo irregolarmente nuvoloso. Le temperature sono senza variazioni di rilievo, tempo stabile anche per l'inizio della prossima settimana. E adesso apriamo come di consueto la nostra finestra sul mare e andiamo a salutare Tommy il Bagnino, buongiorno Tommy, allora come stai? Buongiorno, buongiorno Marco, io molto bene, spero anche tu bene, buongiorno a tutti. Sì, vedo che anche questa mattina lo scenario è decisamente splendido, estivo, siamo nella settimana di ferragosto. Nel giornale di oggi si parla di queste meduse, di queste noci di mare che avrebbero invaso la spiaggia, le spiagge dell'Adriatico. Mi confermi? Sì, è vero, è vero, abbiamo avuto a che fare in questi giorni con queste meduse, abbiamo scoperto che sono veramente pochissimo orticanti, quasi niente, quindi non sono pericolosi per la balneazione. Però effettivamente ci sono dei tratti di mare in cui praticamente l'acqua è densa di meduse e bisogna nuotare scansandole, quindi è un fenomeno che c'è insomma. Fanno un certo effetto, va bene, comunque per la giornata di oggi tempo bello, mare calma piatta, vedo le vongolare che stanno rientrando in porto, davvero un bel quadretto, grazie. Ah, ci sono anche dei bagnanti vedo, stanno facendo il primo bagno. Sì, sì, stamattina già siamo attivi. Bene, grazie Tommy, buona giornata. Allora andiamo a leggere i giornali, il Corriere Adriatico, ecco dicevamo l'invasione, un'invasione aliena, titola così il Corriere di questa mattina, le noci di mare tra i bagnanti sulle spiagge un'invasione aliena, lo vedremo anche nelle pagine interne. Ma intanto l'apertura dell'edizione pesarese è per un furto con contorno giallo, un ride di ladri che hanno fatto irruzione in un appartamento in pieno pomeriggio, hanno tagliato la cassaforte, sapevano a che cosa mirare, nessun segno però di effrazione né alla porta né alle finestre, i vicini di casa hanno notato però un'auto in fuga. Mentre di spalla ancora miliardi per il nord, da noi invece strade nel vuoto, mentre sotto è la rete, la giungla degli imbrogli, la rete internet ovviamente, quattro persone a Pesaro sono state denunciate per aver truffato su internet, mentre a Fano sì all'interquartiere, il no dei residenti è fino all'ultimo, ieri sera in consiglio è passata la proposta della giunta e dunque si va avanti. Morosini a Pesaro assalti mafiosi, serve anche una risposta sociale. Pieroni invece l'assessore regionale, il bonus e l'autodenuncia, ho fatto carità, l'assessore regionale li prese il mio socio. La pagina interna allora del Corriere Adriatico, sia all'interquartieri, Seri non fa fermate, nulla di fatto con i residenti di Gimarra. L'incontro avvenuto in extremis, prima del Consiglio Comunale, con una delegazione del quartiere, non produce risultati nel successivo Consiglio Comunale. Hanno tentato, prima che si pronunciasse il Consiglio Comunale, i residenti di Gimarra a far cambiare idea al Sindaco Massimo Seri nel proseguire, nel perseguire il progetto di ultimare l'interquartieri fino all'hotel Riviera, con la realizzazione di un nuovo tratto che attraverserà le colline a nord di Fano, con un immancabile impatto ambientale. Hanno tentato fino all'ultimo, anche con questo incontro. Una delegazione è stata ricevuta, infatti, dal primo cittadino un'ora prima che iniziasse la civica assise, ma il risultato non è stato ottenuto. La maggioranza è andata avanti ad approvare la sua scelta, spinta dall'ultimatum notificato dalla Regione di presentare un progetto di massima prima di Ferragosto, pena la perdita del finanziamento di 20 milioni. Quindi da una parte un gruppo di cittadini, dall'altra la possibilità reale, perché c'era un ultimatum della Regione, di perdere questi 20 milioni di euro. E quindi all'ultimo si è dovuto decidere e quindi approvare questo progetto. un progetto tra i quattro più o meno indicati che ha scelto la Giunta di portare avanti e che prevede appunto la realizzazione di questa strada che poi sbucherà sulla Statale 16 all'altezza dell'hotel Riviera. Questa è significativo, andiamo ancora a leggere l'articolo di Andrea Amaduzzi, significativo il cambiamento dei termini, ora non si parla più di realizzare un'infrastruttura al servizio dell'ospedale di Muraglia, ma di un'opera che possa genericamente migliorare la viabilità fanese. Mentre dal punto di vista, e questo è un momento, la fotografia fa vedere un momento di questo incontro, come dicevamo in extremis della delegazione di residenti di Gimarra, contrario all'opera nello studio del sindaco, ebbene gli ambientalisti dicono e parlano di vantaggi che porterà questa strada assolutamente irrisori, attacca anche il movimento Nuova Fano, l'origine del male è l'ospedale unico, Scempio a Muraglia. In questo caso, dicono gli ambientalisti, i casi sono certi, i vantaggi invece sono dubbi, in ogni caso irrisori. La considerazione è di una quindicina di sigle ambientaliste che imputano all'amministrazione comunale di non avere interesse per le ricchezze del territorio. Invece per Nuova Fano, come dicevo, il peccato originale risiede nell'idea dell'ospedale unico, che sarà causa in futuro dello smantellamento totale del Santa Croce, ormai non più ospedale, ma stabilimento ospedaliero. Questa è la pagina del Corriere Adriatico di Fano, che potrete leggere, scusate, ho detto Andrea Maduzzi, ma in realtà l'articolo è di Massimo Foghetti, quindi chiedo scusa al collega. Allora, polveri sottili invece, l'altro argomento da Fano, dalla pagina di Fano del Corriere Adriatico. Impennata di PM10 nell'area industriale di Bellocchi, caccia al colpevole, è stato presentato lo studio dello spin-off Geoin Tech, senza risposta invece il dato anomalo della centralina di via Montegrappa, mentre nella fase 2, solo nella fase 2, nell'indagine si potrà trovare la sorgente di queste polveri sottili. Perché in questo momento non c'è una fonte certa, si sa soltanto che ci sono dei dati, che in questa area di Bellocchi porta a questi dati molto elevati, ma non si capisce esattamente, anche dallo studio, che è uno studio abbastanza complesso, da dove scaturiscano questi inquinamenti, da dove venga fuori, da dove, quale sia l'origine. Allora, tra l'altro questo è uno studio che per portarlo a termine ci sono voluti molti mesi, in più dei 18 inizialmente stimati, chiaramente di mezzo ci si è messo anche il blocco totale a causa del coronavirus, e di conseguenza il tempo necessario è stato superiore ai 18 mesi. Cosa esattamente sfuga, però, e se la responsabilità di queste impennate di polveri sottili, proprio nell'area in cui insista attualmente la centralina, attribuita per il momento a fonte non nota, sia di ricondurre ad un solo fattore o al coinvolgere, a convergere di più elementi, sarà appunto la fase 2 di questa indagine a stabilirlo. Questo già dalla seconda metà di settembre, quando saranno compiute rilevazioni simultanee in più punti, è anche eseguita una caratterizzazione delle PM10 nel tentativo di individuare marker che permetterebbero di risalire più facilmente dunque alla sorgente. E questo è l'articolo appunto di Andrea Moduzzi. L'intero complesso studio però sarà intanto consultabile sul sito del Comune, quindi chi vuole leggerlo, chi vuole andare a dargli un'occhiata, mentre dopo le elezioni saranno previsti momenti di confronto con la cittadinanza. Così ha detto l'assessore Mascarini che in questi giorni pre-elettorali ha deciso comunque anche per quanto riguarda far condicio di non apparire in pubblico e dunque finita l'elezione, finite e passate le elezioni, si tornerà a parlare e a fare anche incontri faccia a faccia. Mentre per quanto riguarda il Covid nella città di Fano, oggi ci saranno degli esami al Codma di Rosciano per 70 persone. Circa 70 persone sono amici e parenti, apparenti stretti di alcuni vacanzieri, risultati positivi al coronavirus dopo un viaggio in Croazia. Si tratterebbe di sei giovanissimi residenti tra Fano, Pesaro e Montecchio sulla dozzina di persone in totale che ha partecipato alla gita turistica in Pullman. Altri due contagi riguardanti i familiari stretti sarebbero invece successivi al ritorno a casa di queste sei persone. Nel gruppetto alcuni avrebbero manifestato sintomi abbastanza leggeri, mentre altri risulterebbero praticamente asintomatici. Torniamo a parlare del beato Antonio da Fano. Ricorderete quel frate sepolto messo, incastonato in un muro della chiesa di Santa Maria Nuova a Fano. Ci fu tanta attenzione mediatica dietro a questo ritrovamento, del quale si sapeva che c'era questa bara messa tra queste mura. Ebbene, adesso per il beato Antonio da Fano è arrivato il momento di fare una visita all'ospedale, tra virgolette chiaramente, nel reparto di radiologia. Andiamo sul Corriere Adriatico, un attacca per il beato Antonio da Fano. Il corpo del XV secolo lascerà l'eremo di Valle Remita, Fabriano, e andrà all'ospedale Profili. Dunque, è previsto nel reparto di radiologia, sito al piano terra del nosocomio della città, Fabriano, un esame davvero particolare. Domani il beato Antonio verrà sottoposto ad un attacca vera e propria, richiesta dalla sezione di anatomia patologica dell'Aquila. L'obiettivo è approfondire lo stato di conservazione delle ossa e fare una valutazione antropologica della salma del religioso fanese. Un bel riconoscimento per l'unità operativa di radiologia di Fabriano, che in questi mesi ha lavorato senza sosta nell'ospedale NoCovid, gestendo le emergenze dei pazienti provenienti da tutta l'area vasta 2. E allora, tralasciando adesso la storia che troverete sul giornale di questa mattina, questa salma, vedete nella fotografia, questo scheletro è stato ritrovato, rinvenuto il 12 settembre del 2019 durante alcuni lavori in un'intercapedine tra la chiesa di Santa Maria Nuova e il convento dei frati minori francescani. Ora, padre Silvano Bracci sapeva, perché gli era stato riferito molti, molti anni fa, che lì ci sarebbe stato qualche cosa, ci sarebbe stato seppolto il beato Antonio D'Afano, è bastato poi tirare giù il muro, fare due buchi e rinvenire questa cassa in zinco dove dentro appunto è conservato questo corpo. Dall'ispezione cadaverica dello scorso anno si può evincere che il beato Antonio sia deceduto tra i 40 e i 50 anni di vita. La salma si trova ora, come dicevamo, a Valle Remita di Fabriano e non è escluso in futuro il ritorno a Fano. Domani verrà trasferita per almeno un'ora all'ospedale Profili di Fabriano. Qui i medici e tecnici di radiorgia effettueranno un'attacca per studiare meglio il corpo di questo religioso che ha lasciato a Fano e non solo un segno importante della sua esistenza. E adesso andiamo avanti nelle altre pagine del giornale. C'è questa irruzione di ladri, qui siamo alla cronaca dunque, tagliata la cassaforte ma è giallo su come siano entrati in casa. Non risultano i segni di effrazione. Il colpo in pieno pomeriggio lungo la panoramica del San Bartolo. Il furto è avvenuto nel pomeriggio di lunedì tra le 17 e le 18.30. Infatti a rientro i proprietari di casa si sono accorti di quanto era accaduto e hanno dato l'allarme ai carabinieri che sono intervenuti subito dopo raccogliendo la denuncia. Nel momento di assenza i ladri sono entrati in casa, hanno iniziato a ravvistare ovunque ma sapendo che nell'abitazione c'era una cassaforte e quindi sono andati sul sicuro. Un colpo studiato nel dettaglio perché una volta trovata hanno iniziato a lavorare sul posto per aprire il portavalori in metallo. Nonostante fosse tardo pomeriggio hanno agito senza paura e una volta aperta la cassaforte hanno razziato tutto quello che c'era all'interno. Si parla di monili, d'oro, di alcuni orologi da uomo abbastanza importanti. Insomma, quello che rimane di questa storia, di questa vicenda, purtroppo, come ne accadono soprattutto anche in estate, è che queste persone, la cosa che fa più che altro preoccupare, immaginiamo anche la famiglia, è che queste persone erano lì, studiavano probabilmente da giorni i loro movimenti, quindi l'idea di essere stati controllati da persone sconosciute, questa forse è la parte più drammatica, la parte che lascia più il segno al di là degli oggetti d'oro o delle cose che sono state portate via e del fatto che sono entrati in casa. Ecco, quindi questa è un po' la storia. Ma tutti i dettagli li troverete sul giornale di questa mattina. Mira al Fiore, invece, il parco, no? i tagli antispaccio, sapete, al Mira al Fiore c'è la battaglia continua, quotidiana, contro gli spacciatori di sostanze stupefacenti, gli alberi, la vegetazione, aiuta certamente a nascondersi e dunque qualcuno ha chiesto di poter tagliare la vegetazione in basso per consentire agli agenti e anche della polizia, dei carabinieri, guardie di finanza di poter passare e di vedere meglio e quindi di togliere la possibilità a questi spacciatori comunque di nascondersi dietro ai cespugli. Gli ambientalisti però chiedono di non sacrificare il verde del parco in nome della sicurezza. E allora questi ambientalisti facciano i turni e si mettano un po' sparsi tutto il giorno, giorno e notte, in modo tale che rimane la vegetazione ma almeno abbiamo anche la sicurezza perché altrimenti non c'è via d'uscita. Positivi, dopo una gita a Corfu verso i test rapidi per i rientri, questo è il titolo sempre dal Corriere Adriatico, il Ministro Speranza è pronto a rendere obbligatori gli esami anti-Covid utili per chi torna dai paesi ad alto rischio come la Grecia, la Croazia e la Spagna. Dunque ci sono quattro altri quattro casi di positivi nelle Marche, sono gli ultimi dati delle ultime 24 ore, nessun decesso, nessun paziente ricoverato in terapia intensiva, il virus ha perso forza ed è meno aggressivo rispetto a quando è scoppiata la pandemia ma a preoccupare adesso sono i casi di importazione cioè quelli che arrivano dall'estero. Una situazione che sta mettendo in allerta tutto il paese, tutta l'Italia a tal punto che il Ministro della Salute sta lavorando per attivare l'obbligatorietà di un test rapido per tutti coloro che rientrano in Italia da paesi come dicevamo a rischio come la Grecia, la Spagna e anche la Croazia. Il test molecolare sulla saliva fornisce infatti una risposta certa in 15 minuti e sarà fondamentale negli aeroporti e alle frontiere per verificare che chi torna dalle vacanze o comunque dai paesi ritenuti a rischio non abbia contratto il Covid-19. Andiamo avanti e sulla pagina di Senigallia il titolo Senigallia ed intorni sono Covid-free ma per 34 persone c'è la quarantena si tratta di badanti tornate dall'est Europa per assistere gli anziani e gli italiani rientrati dai viaggi mentre sulla fiera di Sant'Agostino senza il bombolone sarà vietato mangiare durante la manifestazione niente mercatino spontaneo di bambini e ragazzi. L'outing dell'assessore Pieroni anche io ho avuto il bonus ma l'ho donato alla Caritas il candidato sindaco di Loreto dice ho un'attività in società e non sapevo fosse stato richiesto appena visto l'accredito subito ho fatto tre bonifici ora in questo caso l'assessore Pieroni però è stato come dire onesto nel senso che qui ci sono i bonifici e come potete vedere non so se riuscite a vederlo a casa ma la data parla in maniera molto chiara dunque lo difende lo scagiona totalmente alla grande nel senso io non devo difendere Pieroni non sono nemmeno non ho mai incontrato in vita mia però ecco bisogna fare dei distinguo perché poi si finisce nel Calderone nel Tritacarne non è giusto allora il 9 luglio quindi parliamo di un mese fa c'è questo bonifico a favore della Caritas di Loreto del centro Caritas un altro Caritas ancora e poi lo stesso un'altra erogazione liberale quindi sono tre bonifici che sono stati fatti nel mese di luglio quindi un mese fa in tempi assolutamente non sospetti e poi lui dice io quando ho visto l'accredito insieme a mia moglie ho deciso di donarlo in beneficenza questo un mese più fa così hanno fatto e poi dice lui io non ci ho pensato più chiusa la vicenda poi è venuto fuori qualche giorno fa tutto il polverone a Monte a Roma e quindi a quel punto lui dice prima che qualcuno venga fuori che mettiamo le mani avanti diciamo le cose come stanno però come avete visto la situazione è assolutamente come dire chiara limpida un mese fa quindi e tra l'altro questa qualcuno dirà ma perché gli hai chiesti? non gli ha chiesti lui gli ha chiesti il suo socio il socio quando l'ha fatto l'ha fatto a nome della società e quindi però quando gli ha visti gli ha donati questo è l'assessore Pironi lo vedete in questa fotografia in questa immagine che pubblica che pubblica il Corriere Adriatico andiamo avanti con le altre pagine diciamo dell'invasione chiamavano aliena l'invasione aliena tra i bagnanti arriva cioè le meduse non sono meduse ma intanto noci di mare si chiamano così l'esperto dice non sono urticanti e non sono pericolose per l'uomo ma comunque danneggiano l'ecosistema ora che non siano urticanti o pochissimo veramente urticanti ma proprio appena 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 ma quasi niente non ci si accorge nemmeno e ce l'ha detto anche Tommy il bagnino che anche nella giornata di ieri ne ha avvistate parecchie e oggi finiscono sul giornale anche perché sono in tanti a postarle sui social anche sul nostro reporter di strada tantissime persone hanno pubblicato fotografie video anche molto belli non solo di queste noci di mare ma anche di meduse completamente diverse molto più grandi anche molto belle colorate addirittura insomma dei video molto suggestivi molti temono che siano pericolose come dicevamo ma in realtà non lo sono perché non sono meduse però sono un problema per l'ecosistema sono in realtà dei lontani parenti delle meduse come ha scritto sulla sua pagina facebook lo studioso di biologia marina applicata a Cristian Gori e appartengono al gruppo degli cnenofori e sono e non sono dotati dei nematocisti cioè i muscoli arpioni che permettono alla medusa di cacciare e di difendersi ci sono numerose specie che vivono nel Mediterraneo ma quello che troviamo in spiaggia ora purtroppo sono anche nel nostro mare si chiama noce di mare e viene dall'Atlantico pensate sono state portate dalle navi durante i loro percorsi in giro per il mondo attraverso le acque di Zavorra e quindi da là dall'Atlantico con queste navi sono arrivate fino al mare Adriatico e dunque poi qua evidentemente si sono trovate bene si sono moltiplicate e quindi hanno messo su famiglia come si dice per quanto riguarda il turismo le marche quanti like così il turismo social promuove la regione il quinto posto nella classifica elaborata da Demoscopica conquistato grazie alla strategia per valorizzare il territorio anche i portali dedicati ai viaggi rispondono positivamente in questo articolo si parla di come è posizionata la nostra regione la regione marche nelle varie classifiche e quindi insomma non è messa male perché nella classifica generale le marche crescono e allora abbiamo il Trentino il Trentino Alto Adige che è il primo posto poi la Sicilia la Toscana l'Emilia Romagna e come abbiamo detto appunto al quinto posto anche la nostra regione le marche le performance sono così suddivise al secondo posto per la reputazione sui social quindi gente che parla bene della nostra regione scrivendo post su Facebook sui social positivi al sedicesimo posto per il sistema ricettivo quindi l'accoglienza come veniamo come riusciamo ad accogliere questi turisti e poi tante tante altre valutazioni come per esempio la reputazione su Booking piuttosto che la popolarità della destinazione e la reputazione su Google Travel quindi adesso è tutto su internet si fa tutto attraverso la rete poi anche oggi il Corriere Adriatico per due quindi per il terzo giorno mi pare consecutivo parla dello scandalo delle infrastrutture e la madre di tutte le incompiute la regina di tutte le incompiute è sicuramente la Fano Grosseto anche oggi il giornale torna con due pagine il titolo quei quattro chilometri con quattro corsie che finiscono nel vuoto non c'è solo dunque la guinza la galleria ecco la perla del terzo e del quarto l'otto ma la pagina dopo successiva ci sono due interviste due interviste interessanti una a Topi che è ex sindaco di Fermignano che dice che battaglia per scongiurare la sopraelevata avrebbe distrutto la vallata e poi Lucarini ex sindaco di Urbania l'incompiuta figlia di errori della politica dice il recovery fund può rimediare e dice questa strada dice Giuseppe Lucarini che vedete in questa fotografia ha la mia età dice ed è un'idea fu un'idea di Forlani pensate un po' scrive e dice anzi Giuseppe Lucarini mentre Marinella Topi aggiunge la provincia si fece carico di un altro progetto viario meno impattante e adesso invece la notte delle candele il resoconto del Corriere Adriatico poche mascherine in spiaggia titola ma niente multe e niente controlli il sindaco Ricci dice la serata delle candele sono stati tutti responsabili contenti comunque di averla organizzata questo è il resoconto di oggi mentre sempre sul tema delle mascherine la pagina della Valle del Cesano si occupa di un fatto che poi si può replicare benissimo in ogni luogo del mondo perché ci sono quelli che mettono la mascherina e sodo praticamente così se ne fanno una ragione sanno che è per la sicurezza propria altrui non fanno storie e nonostante il disagio perché c'è poi il caldo c'è tutta una serie di complicazioni la indossano punto e basta ma ci sono anche persone che purtroppo fanno fatica e quando non ne possono più vanno in escandescenza e cominciano a urlare a dar contro a quei poveri ai cassieri ai baristi piuttosto che alle commesse e quindi si moltiplicano scrive il giornale questa mattina sulla valle del Cesano si moltiplicano in caso di chi rifiuta di indossare questi dispositivi di protezione nei negozi il caso di Barbara Cesaroni che dice mi ha urlato contro dicendo che era addirittura un complotto e insomma l'educazione giustamente come scrive Jacopo Zuccheri stamattina non si non si compra al supermercato e quindi uno o ce l'ha questa educazione oppure non ce l'ha però è un fatto questo che sicuramente esiste è un problema che c'è io ricordo domenica scorsa ero in un grande centro commerciale a Rimini e ho assistito personalmente a una scena dove c'era appunto una donna che veniva rincorsa da una guardia giurata del centro commerciale questa donna ha cominciato a dirne di tutti i colori io non sono come tutte le altre non sono come tutte le altre insomma non voleva mettere questa benedetta mascherina e l'uomo invece della sicurezza giustamente diceva o la mette signora oppure deve andare fuori dal centro commerciale e lei continuava insisteva che non era come tutte le altre che la mascherina non l'avrebbe comunque indossata nella giunta dei bidoni siamo alla fine della nostra segna stampa è già tardi nella giungla dei bidoni via internet e gli imbroglioni non restano impuniti e a fronte delle segnalazioni ricevute i carabinieri hanno denunciato 4 persone per truffa ci fermiamo qua la rassegna è finita grazie per averci seguito vi do appuntamento stasera alle 20.30 con il telegiornale Occhia la Notizia arrivederci a presto a presto a presto a presto Grazie a tutti.